C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che vorrei comprare, c'è una cadena che si può spezzare, l'incomprensione che si può chiarire, un viaggio intercontinentale, un'abitudine per disegnare. Se solo io potessi libertarti un giorno, se solo tu potessi innamorarti di me, è il tuo cammino a volte che ci viene incontro, in quelle cose già decise dove io mi aspetto. C'è un continente ancora da scoprire, c'è una cadena che si può salvare, e chiamano destino a quel percorso naturale, che non è possibile, che non è diverso, raggiungono la strada e l'illumino immenso, la continente rischia dalle tante, ma non capire mai qual è il punto di confine, e non saperti di quello quanto, dove finisci tu con il ciò io. E questo è il senso di un momento già perdendo, e per te non la finisci a tutto quanto giù. C'è tutto il resto qui per dormire, e quel pensiero fatto deve andare, altra vita da non spedire, e un re tutto ha un modo da cucinare. Se solo io potessi inventarti un giorno, se solo tu potessi innamorarti di me, e il tuo cammino a volte, che ti viene incontro, in quelle cose già decise dove io mi aspetto a te. La doccia in mezzo ci farà incontrare, e chiamano destino a quel percorso naturale, e i due puntini dentro l'universo, raggiungono la strada, il luminale immenso, la continenza rischia alle carte, e a non capire mai qual è il punto di confine, e non saperti di sì, ma dentro farlo, dove finisci tu con l'istoria. e questo è il senso di un momento già per tempo, e questo è il punto da cui inizia tutto il fatto, e tu. C'è un bambino a cui devo insegnare, le cose base prima di partire, c'è il continente ancora da scordire, un'altra suona di vedere, e tu.